Parliamo un po' di storia. Allora, saltando la norma dell'87, che addirittura era 29.000, ma siamo a una storia un po' troppo remota, la prima norma che ha creato un importante risultato è quella del 94. Molti di voi erano già certificati, io dal 96 sono sul campo, quindi me ne ricordo bene, molto formale, però aveva portato una cosa buona, quello che secondo me ha portato di buono ogni norma l'ho scritto in azzurro, la norma del 94 aveva portato il controllo, ha portato il controllo nelle aziende, quello che ha insegnato le aziende era controllare. L'obiettivo primario era produrre in qualità riducendo le difettosità, questo era lo scopo del 94. Poi nel 2000 la prima rivoluzione che si chiamò Vision, per chi c'era, io c'ero, ho i capelli bianchi, nascosti bene, ma ce li ho. La norma del 2000, quello che ha portato è un fatto di organizzazione, ha cominciato a parlare di processi, gestire i processi, ha portato un aspetto fondamentale che era generare la soddisfazione del cliente, poi ha portato anche quella cosa che tutti hanno odiato, che si chiamava misurare la soddisfazione del cliente, che lasciamo perdere. Poi ha portato una grande cosa, che è quella che è ancora molto importante oggi, che era misurare le performance, quindi gli indicatori, i KPI, insomma chiamateli come volete, comunque il fatto di darsi dei controlli e delle unità di misura. Ha poi parlato un altro tema, molto ancora importante, e non saremo mai sazi di quest'ultimo, che è il miglioramento continuo. Al proposito, poi lancio all'intervento che ci sarà in mattinata, di Lorenzo Bringhenti, che farà vedere un approccio al miglioramento continuo, che si sposa molto anche con la Lean, lui è anche consulente Lean, e quindi credo che sarà interessante per voi vedere quello che Lorenzo ha da dire. Nel 2008 è stata fatta la frittata invece, secondo me, perché la Vision tante cose le aveva portate di buono, le aziende erano contente, hanno imparato tante cose, ho visto tanti imprenditori che imparavano dallo scambio con i valutatori, c'è stato un momento importante di crescita delle aziende, nel 2008, l'ISO ha malauguratamente deciso che era già buono ciò che c'era prima, ha cambiato due virgole e ha emesso una nuova norma. Peccato che questa cosa ha creato una caduta di interesse e di coinvolgimento delle aziende elevatissimo, perché una norma che non porta niente di nuovo, veramente ha distrutto la filosofia che era quella appunto di crescere insieme alle aziende. Non so come la pensate, ma spero che siate d'accordo. Io la chiamo l'opportunità sprecata. La norma del 2015, secondo me, poi lo vedremo, parla invece di una cosa che è molto importante, che è il management e lo sviluppo. Parla di comprendere il contesto delle parti interessate, parla di gestire le opportunità e i rischi, parla di leadership.